L'utente, che oltre ad essere abbonato a una specifica materia, ha ricompresi nella propria utenza tutti i prodotti collegati alla stessa, può visualizzarli e accedervi direttamente dal menu principale. Essi compaiono in nero con lo stesso carattere delle rubriche di materia e vengono evidenziati al passaggio del cursore. Un'altra modalità per accedere a tali prodotti è aprire il burger menu collocato in alto a sinistra sotto l'header. Al click dell'utente si apre una finestra in cui i prodotti sono suddivisi per tipologia, ossia in codici commentati, scenari commentati e formulari commentati. Selezionando il prodotto di interesse, ad esempio un codice commentato, l'utente può visualizzare direttamente nella stessa finestra quelli compresi nel proprio abbonamento. Cliccando sul codice che intende consultare, l'utente atterra su una pagina in cui vengono raggruppati gli argomenti in cui esso è suddiviso. Tramite gli stessi è possibile visualizzare anche i sotto-argomenti in modo da facilitare ulteriormente l'individuazione dell'articolo ricercato. La finestra può visualizzare fino a un massimo di quattro prodotti. Per visualizzare i restanti o se l'utente intende acquistarne di nuovi è possibile tramite il tasto vedi tutti atterrare su una pagina in cui sono elencati tutti i codici, sia quelli già acquistati sia quelli disponibili. Allo stesso modo è quindi possibile visualizzare gli scenari commentati e i formulari presenti nella configurazione dell'utente. A tali prodotti, infine, è possibile accedere anche dalla singola home page di materia tramite il box posizionato in alto a destra.